Fincantieri, beyond innovation. 2018, Fincantieri open the fuel cell and hydrogen laboratory. L'obiettivo era lo sviluppo di una sperimentazione, di un impianto, che poi potesse essere trasferito a bordo di una costruzione Fincantieri in un tempo quanto più possibile breve. Il laboratorio è stato realizzato nel campus di Basovica, in collaborazione con la Università di Trieste. Qui un sistema di prototipo è stato installato e testato con l'integrazione di integrare il on-board a cruise ship. Un'importante obiettivo. Nessuno prima di Fincantieri non ha avuto iniziato a finalizzare il questo obiettivo. La nave sulla quale intendiamo installare l'impianto è costruita sotto la supervisione dell'OID-Register. Green hydrogen is produced in this laboratory, using electrical energy from a photovoltaic system. Production takes place by breaking down water molecules into an electrolyzer. Hydrogen gas is compressed and stocked to power a fuel cell generator, able to produce zero emission electrical energy. Stiamo conducendo una verifica di possibilità di brevettare alcune dei componenti dell'impianto, in particolare il convertitore di potenza, e stiamo valutando che la possibilità di brevettare l'assieme inteso come un modello di utilizzo dei vari componenti che sono stati integrati all'interno di questi due impianti. Fincantieri's journey is not yet completed. Discover the next steps of a new future. nhludono che sono stati integrati in queste giornate. Ho